Preghiera del mattino Gesù, oggi come ogni giorno, con i familiari, con i colleghi, con gli amici, con coloro che semplicemente incontrerò, Tu busserai alla mia porta. Aiutami a riconoscere la Tua voce e ad aprirti sempre, così che Tu possa entrare nella mia vita e restare con me. Amen